Marco Gioieni di Allianz Partners, parliamo di mobilità, che cosa vi siete inventati? Sì, buongiorno a tutti, anche da parte mia grazie ancora a Giordano per l'invito. Io spenderei due parole per spiegare un po' cosa fa Allianz Partners all'interno del grande universo Allianz. Allora, noi siamo quella società del gruppo che è specializzata in fornire soluzioni assicurative e servizi di assistenza in emergenza. Questo concetto si declina secondo diversi aspetti, quindi assistenza alla mobilità, quindi assistenza stradale, assistenza alla casa, alla persona, alla salute e anche un'assistenza in viaggio. Ed è proprio in questo contesto che si posiziona il nostro progetto, che si chiama Allis, che appunto ha l'obiettivo sostanzialmente di offrire un modo più sicuro e semplice ai nostri viaggiatori, ai nostri clienti. Quindi cos'è Allis? Allis è una piattaforma digitale che raccoglie una serie di ecosistemi verticali, il primo fra tutti a quello appunto inerente al mondo dei viaggi, che ha appunto l'obiettivo di facilitare l'esperienza e di seguire il consumatore durante tutta l'esperienza di viaggio. Quindi partendo sin dall'inizio, quando siamo a casa, pianifichiamo un viaggio che sia di piacere o di business, prenotiamo dei voli, prenotiamo una location per una destinazione, sia accompagnandolo durante il viaggio stesso, quindi quando mi sto spostando per raggiungere la mia destinazione, per poi supportarlo una volta arrivato a destinazione, in caso ci siano delle esigenze o degli imprevisti. Beh, questo posizionamento ci permette di affermare che una società come Allianz Partner non è più la classica compagnia assicurativa, ma si posiziona come un compagno, un compagno affidabile che affianca i nostri clienti durante gli imprevisti della vita di tutti i giorni, appunto per rendere una vita migliore. Per far questo cosa abbiamo fatto? Per definire l'offerta che abbiamo inserito all'interno dell'ecosistema Lease, siamo innanzitutto partiti da ascoltare quello che i consumatori vogliono. Come è cambiato il comportamento dei viaggiatori? Beh, dalle nostre ricerche, circa l'84% dei viaggiatori si aspetta dalla propria compagnia assicurativa una serie di soluzioni digitali che appunto renda semplice e sicuro il viaggio. Il 91% addirittura si potrebbe sentire rassicurato di avere accesso durante il proprio viaggio a un canale di assistenza medico-sanitaria 24 ore su 7. e addirittura l'80% di questi consumatori afferma di aspettarsi un'esperienza per un eventuale sinistro, quindi un imprevisto, un rimborso per un ritardo aereo, uno smarrimento di un bagaglio, in modo completamente automatizzato, senza dover aprire un dossier, inviare documentazione, quindi in modo molto molto facile. E quindi è proprio per questo che Alissa alla fine si compone di due proposizioni. La prima, una proposizione completamente gratuita, accessibile a tutti, che prevede all'interno di questa piattaforma digitale la possibilità di organizzare il proprio viaggio in una specie di organizzatore digitale dove io posso salvare i dettagli del mio volo, la mia destinazione, i posti che andrò a visitare, l'hotel in cui sorgionerò. E la piattaforma in modo del tutto proattivo ti informa se ci sono variazioni del tuo volo, il tuo volo è stato ritardato, è stato cancellato, il gate è cambiato, per esempio se ci sono stati delle emergenze sanitarie a destinazione, con informazioni che mi possono aiutare a riprogrammare un viaggio, a viaggiare in modo più sicuro. E questo fa parte di una componente informativa totalmente gratuita. Poi chiaramente c'è una componente più premium che è associata all'acquisto di una polizza di assicurazione viaggio, polizza che tipicamente copre l'annullamento del viaggio, le spese medico-sanitarie all'estero, che sblocca una serie di vantaggi, vantaggi come ad esempio la possibilità di ricevere un rimborso automatico se il tuo volo ha un ritardo maggiore di tre ore, senza dover far nulla, direttamente sul mio punto corrente. Diciamo che nel nostro paese potrebbe funzionare una grande. Oppure l'accesso a una lounge, una lounge aeroportuale che ti permette durante il ritardo di soggiornare, di alleviare il tuo ritardo. E infine l'accesso a una piattaforma digitale che permette di interagire con un medico, un medico reale, 24 ore su 7, per un primo consulto medico nel caso in cui ci siano problemi sanitari. Quindi tutto questo permette di gestire l'esperienza del viaggio non solo dal punto di vista del mero assicuratore ma anche nell'accompagnare il cliente nell'esperienza di vita di tutti i giorni. Grazie, grazie e complimenti. Grazie.